Buonasera a tutti, che bello da quanto temo che non facevo un filmato notturno. Volevo dire a tutti i proprietari di immobili di Reggio Emilia, di intorni, anche quelli un po' più lontani, che se avete degli inquilini morosi e vi siete scocciati di essere fregati, letteralmente, dagli inquilini, passate con noi degli affitti brevi. Noi vi possiamo gestire l'appartamento, garantire il vostro incasso dell'affitto e liberarvi da tutte le beghe che avete nel condominio, che avete quando c'è il tubo rotto, la lambatina rotta o tutte le altre cose che succedono e che i proprietari, ad un certo punto, sono continuamente chiamati e stressati dagli inquilini. Ciao a tutti, buona serata, non ho la cintura perché sono fermo. Buonanotte a tutti.